Gossipitavip, se lo sussurra, lo svegliamo. La tragica notizia ha scosso tutta la redazione. Eleonora Certelli, una promessa nell'atletica di 21 anni, ha perso la vita in un tragico incidente sulla 1. Tornava da una festa di laurea a Cassino con la madre, il fratello e il fidanzato, quando la loro auto si è scontrata con un camion. Eleonora, appassionata di atletica e tifosa della Lazio, voleva laurearsi in scienze motorie e tornare a gareggiare. Purtroppo, è morta sul colpo, mentre gli altri passeggeri sono rimasti feriti. Gli investigatori stanno esaminando le cause dell'incidente, ipotizzando un sorpasso rischioso come possibile causa. Entrambi i veicoli coinvolti sono stati sequestrati e potrebbe essere aperto un fascicolo per omicidio stradale. La comunità sportiva e i suoi cari piangono questa perdita improvvisa.